Beh, sicuramente è una sfida importante. Siamo arrivati praticamente in una fase criticissima. Non posso dire chi vincerà per motivi scaramantici, quindi lascio al prossimo l'ardo sentenza. Mi auguro che continuino a giocare come hanno giocato fino adesso e spero che vincano. Alla grande, penso. Non faccio gufate perché sennò penso che qualcuno si nervosisca, però speriamo bene per il risultato. Una partita difficile, 1-0 per il Belgio. Così, per scaramanzia, diciamo. Andiamo sotto. Direi un buon 2-0 come è stato cinque anni fa. Gol ai primi minuti e poi alla fine dopo un quarto d'ora di brividi. Questo no, questo non posso provo a farlo. Va contro la mia religione, non posso fare pronostici proprio. Portagliella in entrambi i casi, quindi no. Sicuramente Lukaku conosce bene l'Italia e le tattiche che metteranno in atto, quindi occhio. Ah, è Lukaku sicuramente, è lui il pericolo vero. De Bruyne se si presenterà in campo in condizioni decenti. Un po' tutti perché sono tutti dei grandi giocatori per cui giocano bene. Speriamo.